Cecilia, possiamo dire che il primo cambiamento importante che ti sei trovata di fronte nella tua vita, tu sei giovanissima, però è stato quello forse proprio di lasciare l'Italia e di andare all'estero? Lo è stato e lo è stato già quando ero più piccola, perché già a partire dall'età di 11-12 anni ho fatto le prime esperienze all'estero. È diventata una vera e propria realtà quando sono cresciuta e ho affrontato la scelta dell'università. Nel momento in cui sono stata selezionata per il programma che ho poi scelto come quello per la mia futura carriera universitaria, mi sono dovuta trasferire prima in America, poi in Asia e ora mi trovo di nuovo qui in Europa, seppur fuori sede. Quindi lontano dall'Italia ti ha portato lo studio, qual è stato il tuo percorso? Vogliamo spiegarlo meglio? Certo, mi sono diplomata sia in America che in Italia, ho conseguito il diploma americano di liceo a Miami e invece quello di liceo classico, la maturità classica qui a Pedro, liceo Mamiani. Poi ho selezionato questo programma che si chiama The World Bachelor in Business Programme, in cui si conseguono tre lauree, bachelors, la prima americana all'Università del Sud della California, USC, Marshall School of Business, la seconda alla Hong Kong University of Science and Technology, a Hong Kong, Cina, di cui la laurea è cinese, e l'ultima, quella italiana, in Economia e Commercio all'Università Boccolini di Milano. E a che punto sei esattamente in questo momento? Al momento mi trovo al terzo anno, mi sono trasferita da prima a Los Angeles, fuori a Hong Kong, ora sono a Milano, ma mi manca ancora un anno per completare questo percorso, per cui l'anno prossimo dovrò decidere in quale continente rientrare. Ecco, ma questo cambiamento, quindi questa tua scelta, è stata solo tua o c'è stata l'impronta della famiglia? Impronta davvero significativa della mia famiglia, i miei sostenitori da sempre sono stati i miei genitori, Daniele e Riccardo, insieme anche i miei fratelli, io sono una di cinque figli, per cui, diciamo, la convinzione nell'affrontare questo percorso è cresciuta e l'interesse nel farlo è cresciuto anche assieme alla mia famiglia. Quante sono le lingue che conosci? Sono sei lingue moderne, e ho siato anche ovviamente il greco antico e il latino a liceo, diciamo che le lingue sono sempre state un po' il mio grande interesse, la mia grande passione, sin da piccola, per cui, a parte l'italiano e l'inglese, che ho sicuramente studiato ed approfondito davvero bene, anche grazie alla laurea, ho da sempre studiato il francese, lo spagnolo e, da ultimo, anche il cinese, il mandarino e il cantonese. Senti Cecilia, ma tu ti consideri un cervello in fuga dal nostro paese? Assolutamente, anzi, il motivo per cui ho scelto questo percorso è che, oltre a lasciarmi, a darmi la possibilità, a darmi modo di andare all'estero, mi consente anche di rientrare nel mio paese e il mio obiettivo futuro è quello di costruire qualcosa che mi porti a migliorare questo paese, per cui la mia carriera non sarà improntata sul rimanere all'estero, ma sull'operare qui in Italia. Nella tua esperienza di studio, però, ci sono anche esperienze lavorative? Ho avuto modo anche di applicarmi sul fronte stage, ho avuto un'esperienza in marketing e comunicazione, come quella di gestione e controllo aziendale, entrambi ambiti che si riferiscono sicuramente a quello che è il mio focus di laurea e che avrò sicuramente modo interesse di riapprocciare in futuro, anche se il mio obiettivo ultimo è quello di entrare nel mondo della consulenza. Per questo, dopo le lauree che conseguirò l'anno prossimo, sarà mio interesse approdare un po' in questo mondo. Far tanto studio, stage, viaggi, ma hai tempo per il tempo libero? Scusa il vestizio di parole, per qualche tuo hobby. Ho tempo per il tempo libero, sì. Diciamo che viaggiando tanto ho dovuto mantenere delle passioni che sono un po' itineranti, tra le quali sicuramente la corsa. Tutte le mattine mi sveglio e la prima cosa che faccio è andare a correre, perché è un motivo di sfogo, ma soprattutto è un piacere un po'. Mi lascia trascorrere del tempo dentro la città in cui vivo, per cui è una cosa che adoro. Oltre a questo la cucina, la cucina da sempre come vera italiana è una cosa che portano in cuore. Tra le altre cose la musica. La musica è sicuramente un'altra cosa che porto dentro il cuore, un'altra passione, un altro interesse. E in particolare con lo studio del pianoforte della chitarra ho avuto il piacere di coltivarlo negli anni e l'ho portato un po' avanti anche adesso. Sicuramente si ripropone anche nell'ascoltare musica e brani più commerciali, più moderni quando studio, però ecco, la creazione della musica è una cosa che mi interessa davvero tanto. Il divertimento puro c'è per te? Il divertimento puro c'è, c'è nei giusti momenti. Ovviamente vivo una vita frenetica, dinamica, che mi stimola davvero tantissimo, però riesco tuttavia a trovare sicuramente il mio tempo libero, insieme agli amici, insieme al mio ragazzo. Insomma, riesco a crearmi anche una mia vita personale. C'hai tempo per dormire? Qualche ora per notte sì. Ceci, abbiamo capito che il tuo futuro sarà in Italia. Che cosa pensi che manchi a questo paese, tu che lo vedi anche da lontano, spesso? Secondo me quello che manca davvero è la voglia di cambiamento, è la voglia di affrontare il futuro e di costruire qualcosa, lasciando un po' quello che ci annichilisce, quello che ci rende tanto vecchi, artrusi e allacciati al nostro passato. Quindi quello che ci manca, secondo me, è più un approccio giovanile, un approccio moderno, un approccio fresco a quella che è la modernità, non solo a livello politico, ma anche a livello socioculturale. E quella è sicuramente la parte su cui voglio lavorare, attraverso la mia carriera, attraverso il mio lavoro, ma anche attraverso la mia vita come cittadina italiana. E allora Cecilia, che consiglio possiamo dare ai giovani, ai giovani come te? Gli antichi greci dicevano, psiu che sia treion, cioè quando entravano in biblioteca ad Alessandra ritrovavano questo motto che li invitava a studiare nei libri e a ritrovare l'ospedale dell'anima. Secondo me, per ripartire, l'importante è la formazione della persona. Insomma, secondo me, il cambiamento vero che deve avvenire è quello che dall'etzos personale, dalla persona, si trasmette verso l'esterno. Per cui questi giovani che studiano oggi, che apprendono fatti non solo antichi, ma che possono essere riferiti e riportati alla realtà, alla modernità, potranno poi avere un approccio diverso rispetto a quello passato. Per cui affrontare anche tematiche sicuramente molto più moderne, però importanti, in un modo un pochino più rivoluzionario, un pochino più realistico soprattutto. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS